Ciao, sono Samuele e nel video di oggi andiamo ad affrontare la seconda parte di un video che è uscito un paio di settimane fa circa sulla teoria del dropshipping e in questo video andiamo a vedere la pratica, quindi dropshipping nel 2020 nello scorso video abbiamo analizzato appunto tutto il lato teorico del dropshipping, quindi come si va ad evolvere sul lato appunto su carta mentre in questo video andiamo a vedere qualcosa di più pratico, quindi andremo ad affrontare come si porta pubblicità come fare pubblicità, portare traffico, clienti, un'impostazione generale dello store e i prodotti da scegliere ci sono diverse cose che cambieranno appunto nel 2020 o che comunque se non vanno a cambiare radicalmente sicuramente vanno apportate le modifiche che ti mostro in questo video per evitare di rimanere sempre nella normalità, fare le cose allo stesso modo e di conseguenza non ottenere i risultati che desideri quindi partiamo subito, prima cosa come al solito bullet list da fare sicuramente, iscriverti al canale, attivare le notifiche seguirmi su Instagram, obiettivo un milione e gruppo Facebook Dropshipping Secret, quindi fatte queste tre cose siamo pronti a partire andiamo alla prima slide, ossia come portare traffico e vendite in queste slide che ti ho preparato non vado a cancellare i testi perché voglio tenerti incollato allo schermo fino alla fine ma è giusto per andare con calma, quindi analizziamo una cosa alla volta la bullet list come portare traffico e vendite? Il primo modo è sicuramente Instagram Shoutout e collaborazioni metto al primo posto Instagram sia perché è la mia piattaforma preferita su cui fare sponsorizzate e sia perché ha un costo di entrata minore rispetto ad altre fonti che dopo andiamo a vedere quindi come funziona portare traffico e vendite tramite Instagram? andremo a contattare delle pagine, degli influencer, delle persone nella nostra stessa nicchia paghiamo per farci sponsorizzare con un link nella loro biografia, con una storia, uno swipe up e con un post sul loro feed qui ti ho portato due esempi che adesso li ho presi a caso nella nicchia hunting, quindi caccia e sono due esempi ripeto presi così i primi che ho trovato ma giusto per farti capire tipo una pagina di questo tipo che è di caccia, ha 72.000 follower quindi qui andiamo ad acquistare una promozione, un pacchetto che può essere ripeto storia, link nella biografia e un post qui, quindi sul suo feed, dove sponsorizza un nostro prodotto ovvio che qui non vado a fondo delle cose, nel senso che non ti spiego come farlo perché ci sono già diversi video sul canale dove lo vado a spiegare però ovviamente uno dei migliori modi rimane Instagram fatto in questo modo Instagram quindi abbiamo detto con pagine di questo tipo con influencer, quindi persone fisiche, personaggi, inteso proprio profili personali tipo questo ripeto non è un esempio specifico anche per il numero di follower eccetera però per farti capire una persona e non una pagina all'interno di quella nicchia che insomma di nostro interesse quindi come va fatto bene nel 2020 Instagram Shoutout? ovviamente con un po' più di intelligenza rispetto a quello che funzionava mesi, anni fa quindi la classica immagine, prodotto, siccome c'era poca competizione anche su questo business adesso va elaborato un po' di più, ho fatto un video un po' più diciamo che attrae proprio i clienti qualcosa di più specifico, di più particolare e appunto qua ci leghiamo anche al lato collaborazioni quindi instaurare delle vere e proprie collaborazioni con queste pagine quindi che ne so, acquistare magari dei pacchetti comunque parlandone con questi influencer, queste pagine ogni 3-4 giorni pubblicizzami un post questo si può fare nel momento in cui trovi una pagina un gruppo di pagine che ti portano a profitto quindi ogni 3 giorni posti su quel gruppo di pagine prodotti diversi, video diversi insomma facendo un lavoro di questo tipo il secondo step è ovviamente Facebook Ads che ha un costo maggiore di Instagram ma anche un potenziale di scalabilità molto molto maggiore essendo che andiamo a fare sponsorizzate quindi usciamo nella home page sempre di Facebook o dello stesso Instagram aumentando il nostro budget dipendentemente dai numeri che facciamo quindi qui cosa vai a fare? vai a creare una sponsorizzata pubblicizzi un video con un copy, un testo e la sua creative e la sua creative la foto, il video, quel che sia ti consiglio sempre sempre quando fai Facebook Ads di usare un video mentre su Instagram può funzionare bene anche un'immagine però ecco diciamo che i video sono sicuramente 100 volte migliori ogni volta cioè vedi, fai mostri più cose sono più immediati puoi condividere vari spezzoni insomma ovviamente creare un video è una cosa che ha molti molti pro rispetto a una foto quindi crei una sponsorizzata di questo tipo metti un budget su Facebook anche qui troverai sul mio canale una strategia come fare Facebook Ads, come testare prodotti quindi magari valla a vedere è ovviamente un altro ottimo modo per portare del traffico poi abbiamo anche Google Ads Google Ads è proprio la piattaforma di Google che ci permette di fare gli annunci o le sponsorizzate effettivamente su Google questa non te la posso consigliare per il semplice fatto che non la faccio e non sono un esperto in Google Ads ma ti posso dare sicuramente conferma che è una cosa che funziona su cui bisogna studiarci ho due o tre studenti che ci stanno studiando ed effettivamente di risultati arrivano perché è ovvio vai a targettizzare un pubblico specifico che sta già cercando su Google quel determinato argomento quindi chiaramente ha i suoi pro ripeto, non ci saranno video a riguardo semplicemente perché non lo faccio e dovrei studiarlo è proprio un'altra piattaforma però è un altro modo per portare traffico e vendite chiaramente e poi abbiamo infine una cosa che invece posso consigliarti io stesso le collaborazioni YouTube che anche questa è una cosa poco sfruttata inteso che al 99% si utilizza sempre Instagram e Facebook però anche uscire, trovare piattaforme quindi metodi poco saturi con poca competizione per sponsorizzare il tuo store i tuoi prodotti è un'ottima cosa quindi qui potresti andare su YouTube cercare adesso facciamo l'esempio di caccia perché già ci siamo cercare degli YouTuber che pubblicano contenuti di caccia contattarli e fare una collaborazione è molto molto più forte questo perché su YouTube le persone si appassionano di nuovo al personaggio alla persona stessa che mette i vlog, mette i video tutte queste cose quindi a inizio video se quella persona pubblicizza il tuo equipaggiamento di caccia capisci bene che puoi fare puoi fare bei risultati sono tutte te li ho spiegato un attimo in generale per darti un'idea di quello che si può fare però è giusto andare a cercare modi diversi per sponsorizzare quei prodotti soprattutto su piattaforme poco sfruttate dai dropshipper in questo momento come Google Ads e le collaborazioni di YouTube quindi ovviamente vanno fatte tutte per aumentare le possibilità di riuscita di conversione ma concentrati su quello che sai fare meglio quello che ti può portare migliori risultati e qualcosa di interessante poco utilizzato per provare ad esplodere anche su quel lato lì adesso passiamo alla seconda slide ossia come impostare lo store sul mio canale troverai come al solito tanti video tanti consigli su come impostare lo store nel 2020 quindi presto lascerò dei video aggiornati anche su questa cosa adesso ti mostro comunque dei punti dei pro e dei contro o meglio come fare qualcosa e come evitare di farla per impostare il tuo store nel 2020 il primo punto la prima domanda che mi viene fatta spesso è che tipo di store devo fare le store si dividono in store di nicchia store monoprodotto e store generali general store io consiglio sempre a chi inizia ma in realtà in generale di fare uno store di nicchia o al limite uno store monoprodotto la grossa differenza tra store di nicchia e uno store generale è che appunto lo store generale come dice la parola ha diverse nicchie diversi prodotti il problema qui è che ti serve un grosso budget per andare a sponsorizzarli inteso che ci sono tante nicchie diverse devi andare a gestire tante ad diverse contro invece lo store di nicchia in cui ti fai prendi la nicchia caccia ormai in questo video facciamo lo store di caccia crei quindi uno store con tutti i prodotti di caccia ne prendi uno due che sono quelli principali che andrai a spingere ci costruisci dietro lo store ci costruisci dietro le strategie come possono essere cross sell up sell down sell vari e vai a sponsorizzare in una nicchia già specifica e che sei già ha bisogno di quel prodotto ti dicevo al limite monoprodotto perché se trovi un prodotto davvero davvero forte e che può avere un potenziale di crescita non lo stanno sfruttando in tanti non è saturo allora fai uno store monoprodotto quindi con un solo prodotto qui i pro e contro sono sicuramente il pro è che hai poca dispersione su cosa andare a pubblicizzare oppure non devi perdere tempo sullo store nel senso che riesci a farlo abbastanza velocemente è un solo prodotto ci sono tanti pro in questo senso contro è che sicuramente se quel prodotto non funziona allora devi cambiare tutto hai concentrato tutto su un prodotto solo e su una nicchia sola quindi dovresti cambiare insomma diciamo che queste cose le ho già affrontate in video precedenti però sicuramente ti consiglio di iniziare con uno store di nicchia fatto quindi lo store di nicchia scelta la nicchia la parola d'ordine del 2020 con l'istore dovrebbe essere semplicità quindi pochi pop up timer dispersioni eccessive poco push per far acquistare i clienti insomma davvero semplicità e professionalità sia sul logo sia sui colori niente colori troppo accesi niente sfondi gialli cose del genere quindi davvero parola d'ordine semplicità mi raccomando una cosa semplice ben fatta che risulti professionale altrimenti passiamo tutti per dropshipper nessuno riesce a fare le vendite con store buttati lì a caso quindi mi raccomando su questo punto però ripeto lo andremo a vedere in video successivi proprio in dettaglio questa cosa altro super importante punto su come impostare lo store è il comunicare qualcosa e sfruttare le emotività in un video precedente in cui ti consigliavo le top 3 nicchie del 2020 l'avrai capito che bisogna fare fare leva sulle emotività quindi andare a in un certo senso spaventare i clienti su le potenziali potenziali danni che può causare la mancanza di un certo prodotto quindi abbiamo preso l'esempio di baby care nel video delle top nicchie 2020 se fai leva sulle emotività quindi se non utilizzi questo tipo di non lo so di tracolla per tenere il tuo bambino potresti rischiare per il fatto che tenendoli in braccio magari ti cade il telefono insomma tutte cose di questo tipo e lo fai anche sfruttare l'emotività in un altro senso ossia andando tipo a legare una campagna di beneficenza sul tuo store ogni top ordini vado a a devolvere il x per cento che può essere 5, 10, 20 per cento del mio profitto a questa beneficenza lo leghi magari su un prodotto su uno store eco-friendly quindi il 10 per cento del profitto va per questa associazione contro lo spreco della plastica eccetera eccetera comunica qualcosa e condividi anche quindi con il cliente il fatto che oltre al loro acquisto oltre al prodotto fa anche una buona una buona azione e ovviamente il punto finale che devi devi fare ma devi evitare di fare in questo in questo senso è di utilizzare prodotti saturi prodotti vecchi prodotti troppo generici con prodotti saturi intendo ovviamente prodotti che hanno tantissimi ordini prodotti che vediamo ogni giorno tra le sponsorizzate di instagram di facebook significa che qualcuno ci ha già fatto un brand ci ha già fatto uno store sta spingendo tanto se tu già ti metti lì su facebook su instagram vedi che quel prodotto lo stanno te lo becchi tre volte al giorno nella home page le sponsorizzate di quel prodotto hanno 3 4 5 mila like non ha alcun senso andare tu stesso a sponsorizzarlo perché ti metti contro a persone che magari spendono 3 mila euro in ads ogni giorno quindi sì quel prodotto può funzionare sta funzionando per qualcuno ma il nome che si stanno costruendo e il budget che hanno a disposizione sarà 10 volte maggiore del tuo evita prodotti vecchi perché sì magari qualche prodotto lo trovi lo trovi un prodotto vincente ha un numero medio alto di ordini non lo stanno sfruttando in troppe persone però magari un prodotto vecchio che andava un anno fa o 6 mesi fa e quindi sì adesso non lo stanno sfruttando ma il ciclo di vita di quel prodotto è finito tempo fa quindi non avrai buoni risultati e prodotti troppo generici quindi inutile sponsorizzare un braccialettino un anellino senza alcuna particolarità qui vai solo a sprecare tempo e soldi perché al discorso sì tutti hanno bisogno di vestirsi o a tutti piacciono gli anelli è vero ma perché e come dovresti riuscire a vendere un normalissimo anello d'argento senza legare dietro fattori come l'emotività fattori come l'effetto wow e cose del genere quindi non ha alcun senso sempre per lo store appunto qui ti ripeto evita i troppi pop up timer scarcity quindi vai a dire ne mancano solo due cose del genere ormai nel 2020 passano proprio per uno scam per una presa in giro quindi mi raccomando di non fare questo errore o comunque fallo ma magari limita la cosa cioè se hai 20 prodotti su tutti i prodotti non puoi mettere il timer non puoi mettere ne mancano due ordine entro un minuto cioè capito questo è il discorso importante di questa cosa e un'altra cosa su cui ci tengo a fare a fare chiarezza è attenzione all'inglese è vero io consiglio sempre le sponsorizzate di farle negli Stati Uniti vendere in America per il fatto che appunto sia le spedizioni sono migliori il pubblico è molto diverso ha una mentalità diversa che quello dall'Italia sono più portati all'acquisti soprattutto online pagando con carta Paypal a differenza in Italia che siamo ancora fermi praticamente al pagamento alla consegna a pagare al corriere questo è il discorso e quindi però se andiamo a fare uno store negli Stati Uniti come consiglio io attenzione a quello che scriviamo e a come lo scriviamo è come se tu vai su uno store in italiano e al posto di scrivere spedizione gratuita su tutti gli ordini per questa settimana trovi una scritta tipo spedizione gratuita fino settimana oggi non lo so una descrizione a caso così quindi attenzione all'inglese deve essere praticamente perfetto perché altrimenti se arrivi su un sito scritto male in inglese ma tu stesso male trovi un sito scritto in italiano allora chiaramente uscirai da quella pagina nell'immediato quindi attenzione attenzione anche a questa cosa che non deve essere assolutamente scartata quindi dopo aver visto come impostare lo store quali sono i prodotti da scegliere un prodotto vincente deve avere sempre un fattore wow o comunque un qualcosa che lo vedi dici wow che forza questo non l'avevo mai visto interessante qualcosa del genere qui si collega anche al fattore che ti dicevo prima ossia oggetti troppo semplici non avranno mai un fattore wow e quindi non riesci ad andare a fare insomma a far presa su l'effetto della gente essendo che sui social c'è un tempo di di attenzione davvero davvero breve parliamo di probabilmente millisecondi o comunque un secondo scorrendo le persone vedono migliaia migliaia di foto video al giorno quindi riuscire a trovare un prodotto con un effetto e un fattore wow è sicuramente una cosa molto molto importante a questo si lega anche un prodotto che deve avere un'utilità e che serve in questo momento quando facciamo facebook ads o sponsorizzate instagram è importante utilizzare un prodotto che abbia realmente un'utilità proprio perché almeno in questo modo la gente alle persone alla nicchia che andiamo a cui andiamo a sponsorizzare ce l'ha davvero bisogno se andiamo a fare una sponsorizzata su un target mamme con figli da 0 a 12 mesi e proponiamo un oggetto che può migliorare la vita di quei genitori allora un prodotto con un'utilità che serve adesso si ha un fattore wow tanto meglio e da lì a pochi secondi andiamo a concludere la vendita inoltre un mio consiglio è quello di utilizzare i social per capire cosa sta funzionando e che cosa sta girando in questo momento quindi utilizzando instagram utilizzando facebook girando per google hai un po' il polso di cosa di cosa si sta parlando insomma quindi di che prodotti stanno girando che cosa la gente sta pensando che cosa sta utilizzando che cosa si dice in modo da riuscire a capire che soluzione puoi dare tu a quei potenziali clienti di un tuo futuro store e quindi crearci un prodotto una soluzione cioè il modo ideale per fare soldi non nel dropshipping ma in generale è creare delle soluzioni delle soluzioni che la gente che la massa ha bisogno e infine ti dico se vai a fare uno store che sia di nicchia o che sia monoprodotto devi scegliere dei prodotti che si prestano a strategie varie di cross sell reorder eccetera eccetera quello che intendo è nel momento in cui vai a vendere magari appunto un equipaggiamento da caccia allora quello zaino da caccia è un prodotto che si presta a una strategia in cui tu nel momento in cui quel cliente clicca su acquista ora quello zaino di caccia gli puoi offrire una torcia come down sell scusami oppure gli puoi offrire uno zaino migliorativo oppure gli puoi offrire un bundle in cui se prende sia lo zaino che la torcia che il cappellino da caccia prende il 20% di sconto oppure nuovamente se vai a vendere non lo so un tagliacapelli adesso non sarà il nostro esempio ma vai a vendere un tagliacapelli allora puoi fare una strategia di reorder quindi gli vendi il ricambio per la testina di quel tagliacapelli quindi prodotti che si legano bene a queste strategie in modo che vai ad aumentare l'ordine medio il valore il valore medio il valore a vita di un cliente solo questo ti aiuta sicuramente anzi ti aiuta davvero tanto ad aumentare i tuoi profitti ma appunto ad andare a profitto in maniera più semplice quindi questo video si conclude qui io spero ti sia tornato d'aiuto per fare una review finale di questo video abbiamo visto come portare traffico e vendite quindi le strategie generali che puoi utilizzare come impostare uno store quindi delle linee guida su cosa fare cosa non fare per impostare uno store che converta nel 2020 e quali sono i prodotti migliori da scegliere da utilizzare proprio per i tuoi successivi store io spero che questo video ti sia tornato utile ci saranno un sacco di contenuti per prepararti bene al 2020 nei prossimi mesi e andremo anche più in dettaglio su diversi punti che abbiamo visto oggi come al solito ti invito a iscriverti al mio canale lasciarmi un mi piace a questo video attivare le notifiche così ogni volta che esce un video insomma ti arriva la notifica diretta seguirmi su instagram la mia pagina obiettivo un milione partecipare al gruppo facebook dropshipping secret e ti aspetto anche nel mio corso ti aspetto come studente in dropshipping keys che trovi sempre nella descrizione di questo video io ti ringrazio nuovamente e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti